Non era una delle tante parole di spiegazione, cioè se tu gli chiedevi il significato del film e lui diceva, il film ti ha dato qualcosa, ti ha emozionato. Una notte sono venuti anche là a cercare, a aprire la porta, a vedere dove sta, dove sta, però chiaramente era una prassi dei servizi. Grazie.